Ciao, come ti chiami? Ciao, Frank Di Maio Cosa fai di bello nella vita? Sono artista Che rapporto hai con i social media? Instagram, TikTok? Ottimo, perché mi serve per lavorare Sono fuori di testa, voglio solo soldi Wow Mi seguite tutti i giorni, mi fattem fare i soldi setto a ladino Il tempo è tiranno, diceva Sauro, tirannosauro Hai mai pensato di ritoccare le tue foto su Instagram? No, sinceramente no, però dovrei farlo Perché dovresti? Eh, perché su Instagram, secondo me, deve essere tutto al dettaglio Nel senso, tutto deve essere visto nel minimo dettaglio Per avere una bella pagina, secondo me Perché tantissimi fanno così anche, no? Magari tu guardi gli altri uomini che hanno questo fisico perfetto E magari ti si abbassa un po' l'autostima, oppure no? No, ma io sono bellissimo, guarda Però vedo alcune foto di cucina Di parrucchieri, di cosmetica Sono fatte bene, capito? Quanti follower hai su Instagram? Allora, su Instagram mille Su YouTube diecimila Facebook cinquemila TikTok Hai mai subito il bullismo? No, sinceramente no Però sono contro tutte queste cose Grazie Mi la...